Si sgretola il muro del silenzio e dell'omertà attorno a quella che molte hanno battezzato la Tangentopoli in salsa grigentina, mazzette che passavano da una scrivania all'altra all'interno dell'ufficio urbanistica del Comune di Agrigento, un ufficio che era diventato una sorta di self-service per avere autorizzazione, concessione e variante edilizie. Bastava pagare e si otteneva il documento. Il tutto attraverso una vera e propria associazione a delinguere, come hanno ribadito ieri gli inquirenti in conferenza stampa, composta da dirigente, funzionari comunali e professionisti. E uno di loro, Giorgio Parrino, architetto, avrebbe già delineato, poche ore dopo l'arresto, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, assistito dagli avvocati Luigi Troia e Antonietta Pecoraro, il quadro della Tangentopoli. Parrino dunque collabora con la giustizia ed ha risposto alle domande del PM titolare dell'inchiesta, Luca Sciarretta. Secondo quanto emerso nel voluminoso faldone sono cinque gli episodi di corruzione, cessione di denaro sino a 300 euro, in favore di Luigi Zichari, accertati dalla Mobile e dalla Digos, che per mesi hanno spulciato carte, documenti e atti deliberativi. Indagini partite nel marzo 2009, culminate con i provvedimenti di ieri sfociate nell'operazione self-service. Gli altri interrogatori effettuati ieri non hanno dato gli stessi esiti, in molti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Al di là di tutto, colpisce ed ha colpito gli agrigentini l'assoluta sicurezza con la quale gli indagati si comportavano all'interno degli uffici comunali. A seconda della pratica, il prezzo variava dalle 300 fino ad arrivare a 2.500 euro. L'amarezza è scorgere che la pubblica amministrazione non può essere credibile di fronte alla società perché i pubblici ufficiali, i taluni dei pubblici ufficiali che in essa albergano, sono soliti fare mercimonio dell'attività da loro svolta, asserventola agli interessi privati e in pratica senza giri di parole, prendendo mazzette per l'erogazione di provvedimenti amministrativi.